Cari lettori, siete curiosi di sapere quali sono i film in tv nella prima serata di giovedì 14 dicembre, che prendono vita dalle pagine dei libri? La vostra rubrica giornaliera è pronta a presentarli. Dal romanzo Il dovere di un capitano di Richard Phillips, il film drammatico Captain Phillips attacco in mare aperto in onda sul canale Rai Movie alle ore 21 e 9. Dal romanzo New Moon di Stephanie Meyer, il film fantasy sentimentale New Moon in onda sul canale Italia 2 alle ore 21 e 15. Faccio presente che il palinsesto potrebbe subire delle variazioni. Ora vediamo i dettagli. La trama del film Captain Phillips attacco in mare aperto. Nell'aprile 2009, mentre naviga nelle acque dell'oceano indiano a 400 miglia da Mogadiscio, la nave cargo danese in Meos, Alabama, capitanata dall'americano Richard Phillips, è assaltata da un gruppo armato di pirati somali. Phillips, sposato con Andrea e padre di due figli, non esita a offrirsi come ostaggio pur di mettere al salvo i membri del suo equipaggio e la nave. Durante i tre giorni successivi, passati in alto mare su una piccola scialuppa con i pirati, Phillips prova inutilmente a fuggire e a trattare con il nemico ma la situazione si risolverà solo con l'intervento dei cecchini dei Navy Seals americani. La trama del film Me Moon, uno sfortunato evento occorso durante la festa per il diciottesimo compleanno di Bella porterà Edward e i suoi familiari ad andare via da Forks, per proteggere la ragazza. A seguito di ciò Bella, addolorata per la separazione dal suo amato, cadrà in una forte depressione da cui uscirà parzialmente grazie all'amicizia con Jacob Black, un ragazzo apparentemente normale che, in realtà, ha in sé il gene dell'icantropo. Una serie di premonizioni equivocate riporteranno Edward e Bella in contatto ma nuove insidie e l'ira dei volturi metteranno ancora una volta a dura prova l'amore tra i due ragazzi. Grazie per l'ascolto. Se sei un appassionato di adattamenti cinematografici tratti da libri, non puoi assolutamente perdere questa rubrica giornaliera. Ogni giorno troverai i film trasmessi in prima serata che prendono vita dalle pagine delle opere letterarie, offrendoti un'esperienza unica e coinvolgente. Ti invito gentilmente ad iscriverti al canale per non perdere nessuna novità e offrirti sempre nuovi spunti e consigli interessanti sul fantastico mondo dei libri. Un caro saluto.